Ragazzi partiamo col monologo, abbasso gli alert, abbasso i blurb, parto col monologo Allora, partiamo col monologo, è stata una buona Roma, una buona Roma, non ottima, ma una buona Roma a Torino allo Juventus Stadium che ha pareggiato 0-0 contro una Juventus dai due volti e una Juventus diciamo un po' squadra B al primo tempo e squadra A al secondo tempo e squadra A al secondo tempo per 20 minuti ha fatto paura quando ha alzato un attimino il ritmo e l'intensità sembrava che veramente il gol era nell'aria Una buona Roma il primo tempo, una Roma insufficiente nei primi 35 minuti del secondo tempo secondo me, insufficienti e una grandissima Roma negli ultimi 15 minuti del secondo tempo negli ultimi 15 minuti del secondo tempo c'è stata una grande Roma Devo dire bravo a Daniele De Rossi su certe cose e meno bravo su altre cose Bravo nel preparare la partita, ho avuto il coraggio di mettere Vesilio in campo che secondo me fa una partita sufficiente Bravo come comunque aver avuto il coraggio di mettere anche Di Bala in panchina e Paredes Cristante oggi fa, secondo me, mi ora in campo, siamo Andigan, siamo Ammancini Fa una grande partita senza Paredes e secondo me adesso Cristante ormai non c'è più dubbio o gioca Cristante o gioca Paredes anche perché Cristante credo che con l'evoluzione di carriera da mezzala ormai non possa più giocare proprio per velocità e è proprio diventato un giocatore posizionale che però davanti alla difesa può essere quel giocatore fisico che comunque si mette in mezzo ai due centrali che dia copertura, è bravo nelle preventive, è bravo nella lettura comunque è giocatore, ma là ci può stare però o gioca Cristante o gioca Paredes, è evidente per quanto riguarda altre cose, per me gli esterni, Sule e Salemegger hanno fatto una buona partita, soprattutto di sacrificio Sule deve fare meglio l'ultimo passaggio, assist, il tiro sbaglia magari l'ultima scelta, però tante volte ha creato superiore danni in me numerica, ha dato una mano, è un giocatore che secondo me ha fatto bene come Salemegger dall'altra parte che secondo me è un acquisto importante Angelinio, Angelinio di due volte male il primo tempo il secondo tempo è cresciuto piano piano e gli ultimi 15 minuti è stato un Angelinio alla Marcello, vedo di la verità per il resto non mi è piaciuto Pellegrini non mi è piaciuto nella partita e non mi è piaciuto negli atteggiamenti ancora una volta ho visto che se ha sbagliato lui se la prende col compagno se il compagno sbaglia se la prende col compagno e questo non mi piace soprattutto da capitano io non ho mai visto Francesco Dotti e De Rocci sbracciare verso i compagni se sbagliano un passaggio e non lo accetto soprattutto da Pellegrini che non è né Totti né De Rossi e non va bene con i conteggiamenti da un po' fastidio a vederlo poi soprattutto da un capitano che dovrebbe incoraggiare i compagni anche se sbagliano questo qua lo faceva De Rossi in campo per il resto Manu Gonè quando è entrato piano 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 è entrato in coppia e gli ultimi 15 minuti abbiamo visto un giocatore che non so quant'è che non avevamo un centrocampista così una bestia un animale un centrocampista veramente il centrocampista che serve a sta squadra nira de dio proprio cioè ragazzi è una forza da natura e è quello il motore che serve a sta squadra e ne servirebbe un altro secondo me di Manu Gonè che ci dovreste avere in panchina Baldanzi un'altra volta meglio di Pellegrini io Baldanzi e qui dico l'errore di Daniele per me Daniele è una cosa sbagliato uno io prima della partita lo posso dire io lo posso dire perché l'ho detto prima della partita no dopo perché è facile dopo io prima io prima della partita ho detto secondo me Dobbic lo deve mettere in panchina Daniele perché ha l'assist di Shomuro dove che fa gol e grande prestazione quando entra con l'Empoli per preservare Dobbic che non stiamo dicendo adesso che Dobbic è una pippa ma si vedeva già che era un giocatore in difficoltà con Cagliari e Empoli che è stato nullo pensato a Juventus Stadium contro Bremer contro Catti io sto sincero io non l'avrei fatto giocare anche perché adesso passerà il messaggio a tutti quanti che comincia a arrivare alla convinzione che Dobbic è una pippa e invece io non me la sento da bocciature definitive dopo tre partite certo è che ho visto un Dobbic sempre in ritardo sempre secondo sul pallone ho visto un Dobbic un po' fregnamoscia anche negli atteggiamenti me l'aspetto più guerriero porca miseria e però proprio nella velocità d'esecuzione proprio lento i primi metri sempre anticipato Catti sempre anticipato breve non mi ha presa non è dice vabbè i palloni dentro l'aria no no proprio di fuori allora che cosa succede io avrei messo il show muro e Dobbic mi sarebbe tenuto dopo la panchina e spero che nelle prossime partite Daniele faccia questo nel senso perché poi la Roma non è che può intanto può aspettare i giocatori bisogna fare i punti perché siamo partiti male male perciò ai prossimi magari in Europa League mettiamo Dobbic ma in campionato o di Balafarssonove o Shomuro dove o Shomuro dove titolare perché possiamo possiamo aspettare che Shomuro quando è entrato fa una bella sponda ma corre a pressa a tutti uguale a Baldanzi Baldanzi secondo me io ti dico doveva partire titolare ma secondo me al quarto d'ora venti minuti del secondo tempo doveva entra a posto dai pellegrini Baldanzi recupera due o tre palloni fatti bene ma comincia a scambiare da più rapidità più velocità rispetto a Pellegrini che è più compassato ok perciò io dico a Daniele Daniele non guardiamo i nomi di Atremaglie mettiamo tutti quanti i giocatori che ha fatto così con Pisilli che è però cerchiamo a farlo con tutti mettiamo mettiamo le caratteristiche mettiamo chi 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 gioca e chi merita sempre e e per il resto ripeto questo è un punto che una cosetta recupera quello che è perso con l'Empoli perché con l'Empoli doveva essere una vittoria senza se senza ma e questa con Torino ragazzi a Juventus Stadio si poteva perdere no ok Juventus Stadio a Torino a Juventus a poi la scuola e dovrà all'ottavo scudetto poi non guardate non guardate che la Juventus è più ragazzi la Juventus quando ci avrà Douglas Lucas che occupa tutti questi titolari Nico Gonzalez sarà una squadra che infatti meno male pure che abbiamo un contrato adesso però è un buon punto andiamo alla sosta con queste tre partite tre partite due punti e onestamente la Roma almeno sei li doveva fare perciò partiamo con un handicap di quattro punti sono sicuro questi quattro punti perché almeno sei tu dovevi fare però alla ripresa avrai un Hermoso in più avrai un Hummels in più avrai un Cone che sta qua peccato sta cazzarola di pausa dei nazionali e da Genoa Roma Roma Udinese Monza Roma non ci può più sbagliare a Roma ha finito i bonus a Roma deve incominciare a fare filotti di vittoria con queste squadre perché se no di che cosa stiamo parlando però oggi ripeto non è stata una grande Roma è stata una buona Roma un pareggio secondo me giusto anche se se la Roma avesse vinto io credo che nessuno poteva di niente è una prova che che ti dà ti dà speranze per il futuro anche perché dobbiamo mettere questi innesti squadra e speriamo bene speriamo che che Daniele trova la quadratura ma questa ancora secondo me sarà una stagione dove bisognerà togliere ancora altri giocatori soprattutto a gennaio altri li toglierà a giugno toccherà bisogna Daniele dovrà trovare proprio la quadratura del cerchio sulla formazione però quest'anno secondo me si possono mettere le basi per poi veramente costruire nei prossimi anni una Roma da scudetto che dire forza Roma monologo terminato